Partiamo con grande entusiasmo, sappiamo che siamo neopromossi, il nostro obiettivo sicuramente è cercare di mantenere la categoria, non abbiamo altre ambizioni se non quella, se poi saremo bravi a fare il nostro vedremo il campionato facendo, però l'importante è centrare una salvezza tranquilla. No, ti dico la verità, sono soddisfatto, l'unica pecca che potremmo avere è, abbiamo cercato un centrale difensivo, non siamo riusciti a trovarlo, meglio c'era qualcosa ma non era quello che volevamo noi, più o meno si sono restati quelli dietro. Per quanto riguarda centrocampo e attacco sono soddisfatto, abbiamo preso Mostabilini che non ha bisogno di presentazioni, abbiamo preso due o tre giovani che secondo me sono bravi bravi e quindi sono fiducioso. Ma sì, guarda, per sentito dire, credo che le favorite siano Pianico, Sovere, da quello che mi dicono Gorle, Cenate, Paladina, da quello che si sente un po' in giro. Poi penso che secondo me il resto sarà un campionato equilibrato, quindi se siamo bravi ad andare dentro sempre decisi e a fare il nostro atteggiamento giusto, penso che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Lì è quello che ho già detto ai ragazzi, il nostro atteggiamento deve essere quello, se senza quello una neopromossa è impossibile che facciamo il nostro. Se riusciamo a fare quello sono convinto che la squadra è buona.